Buongiorno signor Varon Pui, lei è in carica da un anno e già tutto l'edificio ha iniziato a crollare. C'è caos? I soldi stanno finendo. Grazie, lei dovrebbe costituire l'emblema degli euroscettici. Ma guardate proprio attorno a questa sala stamattina, osservate le facce, guardate la paura, la rabbia. Barroso sembra che abbia visto un fantasma. Cominciano a capire che il gioco è finito, ma nella disperazione di perseguire il loro sogno vogliono rimuovere qualsiasi traccia di democrazia dal sistema. Ed è chiaro che nessuno di voi abbia imparato nulla. Cos'è che diceva lei, signor Varon Pui? Diceva che l'euro ha portato stabilità? Penso che potrei farle un applauso per il suo umorismo, ma questo non è nient'altro che proprio la mentalità di un banchiere. Il suo fanatismo è fuori all'aperto. Lei diceva che era una bugia credere che uno stato di nazioni potesse esistere nella globalizzazione del ventunesimo secolo. Beh, potrebbe essere vero nel caso del Belgio, che è senza governo da sei mesi, ma per il resto di noi, proprio per ogni stato membro di questa unione, e questo è il motivo per cui c'è paura nei loro volti, sempre più gente vi sta dicendo non vogliamo quella bandiera, non vogliamo l'inno, non vogliamo questa classe politica, vogliamo che tutto sia buttato nel cestino della storia. Abbiamo avuto la tragedia greca ad inizio anno e adesso un problema in Irlanda. Ora, lo so che stupidità e avidità dei politici irlandesi ha molto a che fare con questo, ma e poi mai sarebbero dovuti entrare nell'euro. Hanno sofferto con basse percentuali, un fall spoon e un crack enorme. E cosa gli avete risposto? Ciò che gli è stato detto, mentre collassavano, è che sarebbe stato inopportuno per loro avere elezioni nazionali. C'è la commissione qua in giro. Dovevano prima concordare sul budget, prima che venisse loro consentito di avere elezioni nazionali. Ma chi diavolo credete di essere? Voi siete gente pericolosa davvero! La vostra ossessione di creare questo Eurostato significa siete felici di distruggere la democrazia. Sembrate felici che milioni e milioni di persone siano disoccupate e povere. I milioni soffriranno, cosicché il vostro erosogno possa continuare, ma non funzionerà. Il prossimo sarà il Portogallo, con il loro debito del 325% del PIL. Sono i prossimi nella lista, dopodiché temo toccherà la Spagna. E di salvataggio della Spagna sarebbe sette volte più grande dell'Irlanda. E a quel punto tutti i soldi sarebbero finiti. Non ce ne saranno più, ma è ancora più serio che l'economia. Perché se rubate alla gente l'identità, rubate la loro democrazia, tutto ciò che gli rimane è nazionalismo e violenza. Spero solo e prego che il progetto euro venga distrutto dai mercati prima che si realizzi.